Un tris cercato, inseguito, fortemente voluto. Per il terzo anno consecutivo, Oltresport guadagna con pieno merito la qualificazione alle Final Four del campionato nazionale di Powerchair Football, competizione in cui è vice campione in carica. Nel quarto e decisivo match del girone B, disputato sulle tavole del Paladolmen, contro i Golden Hawks Biceglie, Donato Grande e compagni hanno infatti rifinito il poker consecutivo di successi, aggiudicandosi il prestigioso pass. Al termine di un derby corretto e vibrante, reso ancora più suggestivo dalla numerosa e colorata cornice di pubblico sugli spalti, Oltresport ha prevalso con un secco 3-0. Rotto l'equilibrio dopo 5 minuti con la segnatura di Vincenzo Apruzzese, il team rosso-blu ha raddoppiato nell'ultima azione utile prima dell'intervallo con l'acuto di Pachi Troccoli, su schema da punizione. Quindi il definitivo tris è scaturito nel cuore della ripresa con il sigillo di Apruzzese. Oltre i due marcatori, Oltresport ha schierato Donato Grande, di Anita Pallara ed il portiere Alessandro Ferri. Nella classifica finale del girone dunque la squadra tranese ha primeggiato con 12 punti davanti alla matricola Golden Hawks e alla Pegaso Matera. Non nascondiamo la grande felicità per questa qualificazione che gratifica il duro e intenso lavoro di ogni componente della famiglia di Oltresport ha sottolineato il presidente Sante Varnavà. Il gruppo atleti si è consolidato e ha mostrato maggiore maturità rispetto al passato. Ci godiamo questa soddisfazione per qualche giorno e poi ci tufferemo nella fase propedeutica alle Final Four Scudetto, in calendario dal 21 al 24 maggio all'Ignano-Sabbiadoro, con la consapevolezza di avere ancora margini di crescita importanti.